Chiameremo a casa domani Dov'è a guasti via degli alfani E vi ho fatto quei sogni strani Per favore per pranzo ritmoni Questa casa non è finestra Chiedo un buon lavoro verso Firenze Sul bacone le tue finestre E dentro un petto sono sofferenze Ti ricordi a Santa Croce A cantare cucini in quel modo atroce Ti ricordi quando stavo male In quella attraverso di via nazionale In quel terribile palazzo In via Le Guidoni In via Minervini Le rivoluzioni Non sono umane queste istituzioni Non sono umane queste condizioni E poi Che osa rimane Oltre A tua torre Ritilisare il piantone Per diventare un piantone Ritilisare il 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 piantone Continuo a lavaggiarmi perché sei indifferente Alla bellezza di 22 anni sei già insufferente Alla bellezza di 22 anni sei insufferente